Un saluto a tutti, oggi sono qui per condividere con voi entusiasmante anticipazioni riguardanti Terra Mara. In particolare vi parlerò della tragica morte di Sevda e di come Demir si impegnerà a nascondere le prove del suo omicidio. Nelle prossime puntate della famosa Sop turca, i telespettatori saranno testimoni di un evento drammatico che Demir cercherà disperatamente di celare. La serie continua ad accendere le curiosità del pubblico italiano giorno dopo giorno e quanto accadrà presto avrà un impatto epocale sulla trama. Una nuova tragedia colpisce Kukurova, tutto a inizio quando Demir e Zuleya scoprono che la dottoressa Umit, l'amante di Demir, è in realtà la figlia di Sevda. Inizialmente quando Demir viene a conoscenza di questa rivelazione rimane profondamente sorpreso, ma ben presso la sorpresa lascia spazio alla rabbia che lo spinge a confrontarsi con madre e figlia. Una volta che il segreto viene svelato, Umit e Sevda decidono di fuggire dalla città e Demir offre loro un'auto e del denaro per facilitare la loro fuga. Quando in tre si incontrano in un luogo appartato, Umit confessa a Demir di averne ingannato e di avere intenzione di fargliela pagare. Tuttavia appena la ragazza sale in macchina e accende il motore, una sconvolgente rabbia si impossessa di lei e punta un'arma contro Demir. Umit, completamente fuori controllo, spara, ma Sevda, ancora lucida abbastanza da impedire alla figlia di compiere un gesto folle, si frappone tra Demir e l'arma. Purtroppo non c'è nulla da fare, Sevda viene colpita mortalmente dalla pallottola e muore. Demir reagisce immediatamente sollevando il corpo e mettendolo nel bagagliaio dell'auto, poi fugge insieme a Umit. Una volta a casa i due riflettono sul terribile evento accaduto e Demir, deciso di proteggere Umit dalla prigione, prende la decisione di nascondere il cadavere nel portabagagli della propria auto. Dopo aver sepolto il corpo, Demir si riunisce con Zuleya, che lo trova in uno stato di agitazione e con delle macchie di sangue sull'auto. Inevitabilmente Zuleya diventa sempre più esistente con le sue domande per scoprire cosa sia successo. Riuscirà Demir a mantenere il segreto? L'anticipazione termina qua. Se ti è piaciuta lasciami un mi piace ed iscriviti al canale e se vuoi il continuo scriverlo nei commenti così te lo porterò. A presto, ciao!